Ciao a tutti amici miei e benvenuti qui a Yu-Gi-Oh! Milano Duelz Ecco che affronteremo Five E spero di vincerlo con il deck delle divinità Egizie Allora, come mi avete detto Nei vari commenti di aggiungere dei mostri Isis Cioè X, Y e Z Visto che ho parecchi mostri di livello 3 e 4 Quindi ho accettato il vostro consiglio e ho portato delle modifiche E ho aggiunto anche dei mostri luce Adesso vedremo come andrà a finire Quando ho fatto Five Allora, la versione precedente era veramente veramente forte Se no avevo il deck di Exodia guarda non sapevo come affrontarlo Perché è veramente un osso duro Adesso invece vedremo come andrà a finire con quest'altro Allora Mi fermo così Che cazzerone, meno male che è Che avevo guardato la guardia Ok Attiviamo subito il tipo di spazio armonistico Allora il suo deck non lo so proprio di che cavolo deck ha lui E' molto strano Non è molto strano Solo di difesa Allora Andiamo con il drago Vivendo anche rosso E anche cavolazzi Ok ho capito che lui attacca attacca e si dipende però come dimostra il vese ma forte forte ok angelo lino dai angelo portici porti no ok che strano, non stranamo certo che questo tizio c'è una fortuna attiviamo subito il suo effetto così distruggiamo quell'altra carta cosa aveva forza riflesso ma io per sé ci stanno facendo dure qua delle carte immagino a livello estremo cosa cosa avranno ora possiamo attacare perfetto anche io forse devi essere ma per adesso me lo conservo ok e si difende bene evocchiamo l'angioretto perfetto e dove la finisce qui ragazzi non so se è il rapporto con questo ragazzino ma mi è sembrata abbastanza facile o sono stato fortunato comunque abbiamo sbloccato roletto russa tempio dei ra gladiatore besta indomito indomito non so come si pronuncia glifo della leggenda guerri a colpo oscuro cos'è questo amatore nucleo di ferro fuoche del giorno del giudizio ah drago stellare cadente stella cadente bellissimo perfetto e anche qui abbiamo finito ah che bello abbiamo sbloccato astral i boss di xyz dell'amico di non so chi del protagonista del zexer bene ragazzi mi raccomando lasciatemi sempre un bel like del video un commento lasciatemi pure dei vostri 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 parere quando vedete il video con i vostri amici e voglio salutare i miei carissimi amici che mi stanno sempre vicino a commentare questo video allora un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video con astral ciao ciao